Partiamo dalla pagina home ebp community su youtube. In alto a sinistra troviamo il logo e subito a destra c'è un link blu che ci collega direttamente a ebpcommunity.it. Clicchiamo per accedere subito al sito. Ora siamo sul sito e senza indugi andiamo in basso e clicchiamo qui a sinistra sul primo video intro. Questo video ti aiuterà a capire la differenza tra il pacchetto risparmio bp class 1 plus e il corso qualità ebp standard 1 plus. Videoguida relativo al il secondo punto fondamentale è sulla sezione 1 andiamo sul pacchetto gratuito. Clicca subito qui in basso sul videoguida ebp free per capire come iscriverti all'academy e avere accesso a tutto il materiale didattico necessario per seguire i 4 webinar live pubblici su youtube. Inoltre le istruzioni ti insegneranno a prenotare le lezioni nel calendario interno del modulo academy. L'insegnante ti farà entrare in una classe e in un gruppo whatsapp dove verranno condivisi documenti di supporto per le lezioni, eventuali cambiamenti di orario e risposte a domande relative al percorso formativo. Ultimo consiglio fondamentale, se vuoi applicare il metodo ebp alla musica, sulla destra il terzo video intro ti raccomanda di integrare la qualità dell'apprendimento ebp allo studio musicale con due strumenti a scelta, chitarra e tastiera. Per maggiori informazioni, clicca sul terzo video intro. Inoltre, cliccando qui in alto sul tab celeste, puoi esplorare la Music ebp Academy e dare un'occhiata sia al pacchetto Guitar o Keyboard Class 1+, al corso Guitar o Keyboard Standard 1+. Cliccando qui in alto suio.